Il livello marino repentinamente variato su Lampedusa si è abbattuto il Marrobbio, si è scatenata una notte d'inferno. Due pescherecce ed alcune piccole imbarcazioni da di porto sono affondati, danneggiata una motovedetta dei carabinieri e diverti a causa di queste gigantesche onde anche i pontili. È accaduto tutto dall'altro lato del molo Favarolo, un fenomeno naturale che non si verificava da un ventennio. Non ha comunque intaccato il porto dove approda il traghetto di linea e pertanto i collegamenti non sono compromessi. Già durante la notte con delle pompe, la guardia costiera e gli stessi militari dell'arma sono riusciti a salvare la motovedetta dei carabinieri dove si era appena aperta una falla. Adesso non ci sono più rischi perché il Marrobbio sembra essersi spostato verso Levante. Parla di disastro e come se ci fosse stato un piccolo tsunami, tutte le barche si sono alzate, spiega il sindaco delle Pelagie, Giussi Nicolini. Già stanotte ho avvisato la prefettura del Grigento e ho chiamato il presidente della regione che convocherà la protezione civile. Siamo di fronte ad una calamità naturale seria, sono ancora le parole di Giussi Nicolini. Sul Lampedusa si è alzato un forte vento, una sorta di tromba d'aria con onde furiose e l'acqua arrivata fino al campo sportivo. C'è bisogno di aiuto, di riportare all'asciutto i pescarecci affondati, di controllare tutti gli altri, fa sapere ancora la sindaca di Lampedusa che poi ammette tristemente è affondata la vita e i sacrifici fatti dai pescatori. A Lampedusa sono ancora 300 i pescatori, molti danni, molte barche affondate, famiglie rovinate, scrive su facebook il presidente del Consorzio dei Pescatori di Lampedusa, Totò Martello. Per noi è un momento difficile. Per i pescatori di Lampedusa è un dramma. Al sindaco delle Pelagie ha già chiamato l'arcivesco del Grigento, mettendosi subito a disposizione della comunità. Il cardinale, da sempre vicino alle vicende dell'isola, attraverso il sindaco, ha mandato un forte abbraccio a tutti i pescatori. A Montenegro la Nicolini ha chiesto di sostenere le richieste di aiuto dell'isola. E intanto il presidente della regione, Rosario Crocette, che si trova a Bruxelles, ha disposto che la protezione civile regionale intervenga subito a supporto dell'isola. E al sindaco Nicolini è stato chiesto di quantificare i danni per poi chiedere l'emergenza. E la protezione civile regionale ha disposto la trasferta di due funzionari a Lampedusa. Grazie a tutti.